rese crollate nel Lazio, non ci sono mai state le rese alte quest'anno 2024 qui nel Lazio perché c'è un grandissimo raccolto piante stracariche di olive, è chiaro che la pianta più olive avrà e più le maturerà in ritardo, se noi eravamo abituati a raccogliere il primo novembre come sto facendo io addirittura a maniche corte è chiaro che quelle olive saranno tutte verdi le vediamo lì sono belle però se le prendiamo le rompiamo tra le dita ci accorgiamo che di olio non se ne sente tra i polpastrelli e quindi le rese chiaramente sono molto molto basse anche poi dovuto al fatto che ha piovuto molto l'olivo si è bello ingrandito contiene più acqua di quello che normalmente dovrebbe contenere quindi la resa crolla intorno al 9% dovremo aspettare chiaramente tempi migliori quindi chi può aspetta che l'olivo matura un po' che quindi c'è l'invaiatura come si dice in quel momento l'olivo inizia a virare verso un colore violaceo nero anche se la polpa all'interno è ancora verde però inizia proprio a contenere più olio se poi smette di piovere c'è il sole come adesso si asciuga anche un po' il terreno la pianta non manda più acqua alle olive le olive avranno meno acqua risparmiamo sulla molitura perché il molino frantoio ce la fa pagare a quintale di olivo quindi né di olive quindi meno prodotto in peso portiamo e più tra virgolette guadagniamo quindi che dobbiamo fare attendere un attimo tempi migliori io ho colto due tre giorni adesso mi fermo aspetterò un paio di settimane e poi riattacco a raccogliere quindi le rese sono crollate ma non è colpa di nessuno un abbraccio a tutti da per Giorgio ciao ragazzi